ciao piccoli maghi vorrei mostrarvi una cosa guardate molto attentamente qua davanti guardate facciamo una cosa con questo con il niente ma con il niente pian piano si può fare qualcosa ma non è finita devo solo prendere questo foulard colorato e metterlo qua dentro e 123 grazie e buon allenamento con mirror a ball